Sono domestici perché qualcuno le dà da mangiare anche, sennò come si... Non ci posso credere. No, povera signora. No, qualcuno datevi una mano. Oddio, dio, ecco, sono contenti. Ma voleva proprio questo. E perciò loro vengono. Guarda lì, cozziglietta. Guarda i cinghiali come passeggiano. Guarda, a quest'ora. A Mauri. Guarda, guarda. C'è roba da fatti.